Non c'è dubbio, lo sviluppo di Dragon Age The Veilgard è stato piuttosto travagliato. E come se lo è stato? Iniziata nel 2015, la lavorazione subì un primo brusco arresto necessario a spostare le risorse sul promettente Anthem, e dopo varie peripezie, tra cui rimaneggiamenti all'interno del team BioWare e uno spiazzante cambio di titolo, eccoci arrivati al 2024. Il gioco si prepara quindi a debuttare sul mercato il 31 ottobre, ma noi ne abbiamo comunque già avuto un corposo assaggio che siamo pronti qui a condividere con voi. Seguiteci. Iniziamo con una domanda molto importante. Quali sono quegli elementi che rendono un gioco un Dragon Age? È difficile da dire perché la serie fantasy ha cambiato più volte pelle, passando da una struttura a turni ad una più action e da mappe concatenate al mondo aperto di Inquisition. Ma anche dal punto di vista dello stile e della narrativa abbiamo visto un gioco oscuro, violento e adulto al debutto che poi col passare del tempo è diventato un prodotto high fantasy. Insomma, di certo non esiste una ricetta blindata e lo stesso vale per le altre produzioni targate BioWare. Basti pensare ad esempio all'evoluzione che ha coinvolto la saga di Mass Effect, così giusto per fare un esempio. Trovare dunque una sintesi appagante oltretutto dopo uno sviluppo tribolato come questo potrebbe essere un'impresa titanica e anziché accontentare tutti il rischio è che nessuno ne esca completamente soddisfatto. L'unica via di fuga è quindi la narrativa in questo caso, ma il lungo frammentato test che abbiamo avuto modo di affrontare non è stato il massimo per comprendere come se la Kaverad Veilgard sotto questo punto di vista, tuttavia non ci siamo persi d'animo. E così, dopo un prologo un po' affrettato in cui abbiamo combattuto contro Solas, il personaggio Rook, che immaginiamo stia anche per Rooki, ovvero il nuovo arrivato, prende il comando del gruppo di guerrieri che si mette a viaggiare avanti e indietro per il Tedas. Durante il viaggio poi non solo diversi compagni si uniranno al gruppo, ma la nostra base si popolerà anche di artigiani ed altre figure grazie alle quali migliorare ad esempio l'equipaggiamento, le abilità e scoprire anche il passato di Solas e le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto estremo come quello di squarciare il velo. E ad essere onesti, trovarsi improvvisamente immersi in tutti questi elementi senza neppure conoscerne l'origine non ha certo contribuito alla memorabilità, tuttavia sappiamo che ci saranno comunque scelte importanti da compiere e che queste influenzeranno anche in modo sostanziale la partita e l'intero mondo di Dragon Age. A dirla tutta, comunque la maniera in cui questi bibi ci sono stati presentati è stata un po' asettica e confidiamo quindi che il prossimo 31 ottobre il peso di queste scelte si farà sentire in modo più incisivo sulla nostra pelle. Il recente cambio di titolo sposta dunque l'attenzione da quello che sembra essere l'antagonista al giocatore e il suo gruppo. I Guardiani del Velo infatti sono un manipolo di guerrieri che si troveranno a collaborare per provare a ricucire il velo. E nel disperato tentativo di far tornare la magia e l'immortalità nel suo popolo, Solas vuole infatti distruggere questa barriera che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Ma per fortuna all'ultimo momento Varric, il suo nuovo aiutante Rook, ossia il giocatore, Niv Gallus e Lace Harding giungono a mettere i bastoni tra le ruote del Dread Wolf. E così grazie al cielo il Velo è ancora in piedi, ma al suo interno si sono comunque aperti dei barchi che gli spiriti possono attraversare per invadere il Thedas. Tuttavia i mostri non sono gli unici che possono sfruttare questi passaggi. Infatti Rook e il suo gruppo impareranno presto a usare questi portali per spostarsi velocemente da un luogo all'altro, così da contrastare il male che sembra voler tornare. The Veilgard cambia dunque nuovamente l'identità di Dragon Age, che qui abbandona la struttura a mondo aperto di Inquisition per abbracciare una forma più lineare. Ed è una sorta di via di mezzo tra il secondo capitolo e Destiny. Dal titolo di Bungie infatti il gioco prende le missioni lineari inframmezzate da caricamenti e qualche puzzle ambientale, al termine delle quali si trova un nemico più grosso del solito che alla sua morte lascia una cassa premio con cui potenziare l'intero gruppo. Da Dragon Age 2, invece, The Veilgard ruba il sistema di combattimento molto action nel quale si minano fendenti, si para, si salta e si schiva per sopravvivere. E a dare un po' più di spessore al tutto abbiamo anche una ruota dei comandi, richiamabile in qualsiasi stante, con cui è possibile ad esempio ordinare ai compagni di utilizzare le abilità speciali che hanno equipaggiato. E durante la nostra prova è stato più volte necessario impiegare i compagni in combattimento, poiché alcuni scontri si sono rivelati particolarmente impegnativi, specie per la resistenza fisica degli avversari. I nostri compagni apparentemente immortali si sono quindi dimostrati estremamente utili, sia per distrarre i nemici più agguerriti, sia per infliggere un discreto quantitativo di danni sul campo di battaglia. Che siate maghi, guerrieri o ladri, i combattimenti infatti richiederanno sempre di attaccare come se non ci fosse un domani a discapito della componente strategica. E se il primo Dragon Age richiedeva invece di proteggere maghi e curatori e Mass Effect di utilizzare i ripari, qui bisogna invece combattere, parare, schivare e soprattutto impiegare le abilità senza grosse variazioni sul tema. In poche parole scordatevi dunque le mille e una possibilità di Baldur's Gate 3. Qui infatti l'astuzia servirà poco se non a provare a sfruttare le mancanze dell'intelligenza artificiale per ripararsi magari dietro un angolo lontano mentre i compagni lavorano i nemici. Tuttavia, va detto però che non siamo nemmeno al cospetto di un action puro capace di impegnare con la pulizia dei comandi e le evoluzioni tecniche. E così, di fatto, dopo qualche ora abbiamo sentito un po' la mancanza della possibilità di controllare tutto il gruppo o perlomeno di poter definire il comportamento dei compagni. Tuttavia, fare in modo di poter avere almeno un curatore o un membro della squadra in grado di attirare le attenzioni dei nemici potrebbe essere il modo migliore per rendere più puliti e leggibili i combattimenti, aggiungendo dunque uno strato di pianificazione in più al gameplay. All'avvio del gioco si viene accolti da un potente editor dei personaggi nel quale si può scegliere la razza del proprio alter ego, il sesso, l'orientamento sessuale, la classe e il suo passato, il che andrà a definire anche alcune linee di dialogo e alcuni eventi della storia. In maniera molto simile a ciò che accadeva nei titoli di Telltale, infatti alla fine di ogni scambio di battute significativo il gioco avviserà su ciò che avrete ottenuto con la vostra dialettica, e si tratta in sostanza di un sistema di morale abbastanza classico che influenza anche il modo in cui i compagni di viaggio si interfacceranno nei vostri confronti. Purtroppo però non abbiamo potuto vedere le eventuali conseguenze delle nostre azioni per capire effettivamente la profondità di questa meccanica, ma quello che possiamo prevedere tuttavia è che questo sistema sarà la base sulla quale si appoggeranno tutte le relazioni amorose dell'avventura. In combattimento, invece, si potranno utilizzare solo tre abilità speciali per ogni combattente, e queste potranno essere scelte da un vasto albero che cambierà molto il modo di interpretare ogni classe. Un mago, per esempio, potrà specializzarsi nelle cure o nel danno dalla distanza, così come un guerriero potrà invece diventare un tank o specializzarsi nello stordimento dei nemici. Come se non bastasse, poi molte di queste abilità potranno essere combinate tra di loro, così da ottenere effetti aggiuntivi oppure bonus di danni. L'impressione però a dirla tutta è che, pur cambiando gli elementi, il sistema di combattimento rimanga comunque sempre piuttosto simile a se stesso, ovvero molto votato all'azione. Ma anche in questo caso non possiamo escludere che si possano ottenere magari risultati piuttosto differenti tra di loro, trascorrendo più tempo tra i menu e tra le impostazioni di crescita del party. Uno degli elementi della produzione che sicuramente salta all'occhio è il nuovo stile grafico adottato. Siamo infatti lontani dall'oscura ma affascinante decadenza del primo capitolo e invece più vicini a qualcosa che ci verrebbe da definire come style fantasy. Nel loro genere comunque i personaggi sono perfetti e assumono anche pose studiate nel dettaglio, con tanto di frasi che vorrebbero essere sagaci e ad effetto. Siamo praticamente lontani anni luce, quindi dalle atmosfere cupe e di attesa di un destino avverso incombente proprie del capostipite. E questo nonostante anche le vicende di The Veilgard parlino di morte e mostrino un mondo invaso da aberrazioni di ogni tipo. In questo senso poi non aiuta un'infrastruttura tecnologica che sembra essere stata ereditata dai progetti precedenti, quindi con poche pose a disposizione dei personaggi, espressioni un po' ingessate e livelli frammentati ricchi di interruzioni pensate per nascondere i caricamenti. Sia chiaro comunque, il colpo d'occhio è spesso mozzafiato e questo anche grazie a un design delle ambientazioni e dei personaggi originale ricercato nonché ad un'effettistica alla vanguardia, ma sotto la superficie si notano comunque alcuni limiti ereditati dal passato come ad esempio delle collisioni poco precise e mappe spesso dalle dimensioni illimitate. Nulla da dire invece sotto il profilo del doppiaggio in inglese, con dei buoni sottotitoli in italiano e sul fronte musicale, con una colonna sonora che accompagna piacevolmente ogni momento dell'avventura. Nonostante la lunga prova a nostra disposizione, Dragon Age The Vailguard ha solo svelato la superficie di quello che offrirà a tutti gli avventurieri a partire dal 31 ottobre. Si tratta infatti di un gioco mastodontico, che promette decine di ore di combattimenti, decisioni da prendere e di colpi di scena, e aver giocato solo dei frammenti estrapolati dal primo capitolo dell'avventura potrebbe aver privato gli eventi di quel peso e di quella portata che potrebbero avere in realtà. Allo stesso modo anche il sistema di progressione non ha potuto mostrare tutte le sue sfaccettature, apparendo quindi più piatto di quello che potrebbe magari dimostrarsi a gioco ultimato. Rimandiamo quindi qualunque considerazione finale alla nostra videorecensione, ma voi nel frattempo diteci cosa ne pensate. Secondo voi le novità e il cambio di rotta messi in campo da The Vailguard sono convincenti? Diteci ovviamente la vostra nei commenti e rimanete agganciati al nostro canale iscrivendovi, così da non perdere il nostro verdetto definitivo sull'ultima fatica di Bioware quando sarà il momento. Prima di salutarci però ricordatevi di lasciare un mi piace e suonare la campanellina, così non perderete i nostri contenuti in futuro. Noi invece ci rivediamo al prossimo provato, sempre qui sul canale di Multiplayer.it. non perdono le nostri contenuti in futuro, quindi ci rivediamo al prossimo provato.it. a tutti i nostri contenuti in futuro.it.it.it.it.